buongiorno cari amici del gruppo senio del cai ed attività di pensiero sono domenico scala in questi giorni problematici voglio aiutarvi a passare le vostre giornate facendo un regalo che spero vi risulti utile ed interessante cogliendo spunto della nostra gita saracinesco chiamata anche la città delle meridiane voglio insegnarvi a leggere e a utilizzare l'orologio solare che è posto nella piazza principale davanti alla chiesa perché questo è un orologio solare e non una meridiana in quanto ci permette di sapere l'ora in qualsiasi momento del giorno e avere anche un'indicazione grossolana del periodo dell'anno in cui ci troviamo la prima cosa che possiamo dire è che una meridiana muro il che significa che d'inverno quando il sole sarà basso l'ombra che proietta è la più corta possibile mentre nelle giornate estive l'ombra sarà più lunga ed ecco che la cosa ci permette di disegnare la linea del solistizio invernale il 21 dicembre la linea del solistizio estivo all'incirca il 21 di giugno e la linea degli equinozzi più o meno il 21 marzo e il 23 settembre come notate queste linee non sono simmetriche rispetto allo stilo detto anche orto stilo ognomone il che significa che è un quadrante declinante e per la precisione declinante verso est questo perché la parete non è perfettamente allineata in direzione est ovest e quindi la meridiana non affaccia perfettamente in direzione sud il fatto che sia declinante si può vedere dal fatto che la linea del mezzogiorno locale di saracinesco è sistemata un pochettino a destra rispetto al nostro orto stilo le ore della giornata sono sempre state divise in 12 e in altre tante chiaramente le ore della notte e questo spiega perché entrambi i sistemi abbiano come ore 12 o multipli di 12 ma sono due sistemi profondamente diversi quello rappresentato con i numeri romani che arriva a 24 su questa linea orizzontale è il cosiddetto sistema di ore italiche mentre l'altro in numeri arabi che culmina con il mezzogiorno locale alle ore 12 dove c'è scritto saracinesco è il cosiddetto sistema ad ore francesi infatti il sistema italiano che fu in vigore all'incirca dall'anno 1000 fino al 1800 quando fu imposto il sistema francese con editto dell'imperatore napoleone prende come punte di riferimento il tramonto locale o per la precisione mezz'ora dopo il tramonto quindi la giornata si conta a partire dal tramonto e viene suddivisa in 24 ore la cosa era molto comoda sia per i viandanti che dovevano trovare il rifugio dai briganti prima della notte sia per i pastori che dovevano riportare le greggi al loro ovile prima che arrivassero i lupi dalle montagne sapendo l'ora locale e sottraendo a 24 quest'ora si aveva il numero di ore di luce rimanenti e quindi si potevano fare i propri calcoli invece il sistema francese prende come riferimento il mezzogiorno che all'inizio fu il mezzogiorno locale come momento di inizio del conteggio della giornata e quindi della mezzanotte suddividendolo in due parti ciascuno di 12 ore il sistema fu imposto da napoleone e incontrò parecchie resistenze perché in italia non ne volevano sapere ma sappiamo benissimo come è andata a finire da notare anche che il mezzogiorno locale di un posto mediamente non coincide con quello che è il mezzogiorno che abbiamo sui nostri orologi che è regolato sull'ora centrale del fuso nel nostro caso meridiano passante tra berlino e il monte etna da ultimo vi vorrei leggere quello che è il motto di questo orologio solare che probabilmente non si legge molto bene passegger passegger abbi pazienza senza il sole non do udienza che è una delle cose che rendono gli orologi solari così affascinanti spero che vi sia interessato e vi ringrazio della vostra attenzione sin qui grazie mille